Gentili telespettatori, buona giornata. Una frase di Salvini di oggi mi ha fatto riflettere sul personaggio politico. Ovviamente parla di Quirinale, pertanto è una frase estrapolata da un contesto Quirinalizio. Dice così Salvini, si parla di nomi, domani Casini o Sabato su Draghi, o si sceglie Casini o Draghi. Ecco, Salvini la dice così, attenzione, non mi piace escludere, non sono nato per escludere ma per includere, per proporre. E dunque continuiamo a lavorare per offrire al Paese, al Parlamento, una scelta che la maggioranza di centrodestra ha il diritto di offrire. Parliamo di Quirinale, ma io vorrei soffermarmi sul prima parte della frase dove lui parla di una sua attitudine. Lui dice, io sono nato per, non sono nato per escludere, ma sono nato per includere. Ma scusate, io ve lo devo dire, mi spiace cari tifosi salviniani, io però ve lo devo dire. E vi prometto che quando Salvini dirà qualcosa di giusto, a mio avviso ve lo dirò. Assolutamente. Come in passato ve lo sempre dette, le cose giuste che il capitano aveva detto. Oggi, ormai da molto tempo che non posso più fare un video dicendovi, guardate Salvini che cosa ha detto, guardate che cosa interessante, che cosa giusta. Difficilissimo trovare qualcosa di giusto tra quello che dice. E io mi riferisco proprio a questa frase, non mi piace escludere, non sono nato per escludere, ma per includere. Ma lui è lo stesso Matteo Salvini o è un omonimo? È lo stesso Matteo Salvini della Lega Nord, della Lega Lombarda, quelli che dovevano fare la secessione, dividere l'Italia facendo la padania con il loro parlamento. Sotto il Po era... eh? Ve le ricordate, no? Quindi lui faceva parte di un partito secessionista che voleva dividere l'Italia. E non vi ricordate l'opinione che aveva Bossi, Salvini e tutta la combricola della Lega rispetto a tutti quelli che abitavano dal Po in giù fino a Lampedusa, ma non vi ricordate? O forse è un omonimo? Ma è la stessa persona che... c'è ancora un video che circola dove lui poi ha chiesto scusa, però voi sapete che con le scuse che cosa ci potete fare, no? Saltellava cantando a una festa dei cori contro i napoletani. È la stessa persona o è un omonimo? Mi viene il dubbio, no? È una persona che dice non sono nato per escludere, ma per includere. Eh, ma sta parlando del Quirinale. Sì, sta parlando del Quirinale, ma lui sta parlando di una sua caratteristica. Lui è una persona inclusiva, non divisiva. E allora mi chiedo, ma è la stessa persona che saltellava e cantava? È la stessa persona che viene dal partito secessionista di Bossi? Ma forse mi sbaglio, forse è un omonimo, ma magari quelli che sono più giovani di me, io ho 48 anni, anche se non sembra, ho 48 anni, io ricordo bene la Lega secessionista, Roma ladrona, la Lega non perdona, poi Roma ladrona e ci ricordiamo Belsito, insomma, e vabbè, Roma ladrona, Roma è ladrona, ma Roma ladrona. È la stessa persona, l'inclusivo Salvini. Quando ho letto questa frase ho detto no, non è possibile, non è possibile. Da una frase di questo tipo voi capite come agisce questa persona. Una persona che ha facilità a raccontare che lui è quello che non è. Se ha questa facilità a raccontare le cose capovolte, voi capite che su tutte le altre cose che racconta bisogna credergli o sta raccontando una storia di Babbo Natale. A me spiace per i tifosi salviniani, che sono tanti sul canale, ma tu non eri quello che parlava bene di Salvini? Ebbene sì, sono lo stesso che parlava bene di Salvini quando era ministro dell'interno. Sono lo stesso, non sono un imitatore, sono sempre lo stesso. Però quell'uomo del Viminale, dopo il Viminale ha cominciato ad avere sempre torto, a sbagliare tutto. Forse non era reale il Salvini prima, forse è reale il Salvini di oggi, o forse un omonimo, era quello che saltellava. Beh, ci sono molti elettori della Lega e molti tifosi salviniani che vivono dal po' in giù, ma non vi ricordate le cose che vi ho raccontato? Ma io le ricordo bene, ho 48 anni. Chi ha la mia età o chi è più grande di me se lo deve ricordare perfettamente chi era Salvini. E chi è più giovane magari non lo sa, chi adesso ha 20 anni, 25 anni, 30 anni, non si ricorda da dove viene quest'uomo. E allora magari quando sente, io non sono nato per escludere, ma per includere, allora dice, cavolo, wow, questo sì che è un patriota, una persona inclusiva, ma forse non è la stessa persona di prima, forse è cambiato. Certo si può cambiare, ovviamente, ma non si cambia mai completamente. Anch'io sono cambiato da quando avevo 20 anni, ma non completamente. Non sono una persona diversa da quando avevo 20 anni. Sono la stessa persona che si è evoluta e cresciuta, ma di base sono sempre io. Quindi, Salvini, non mi venire a raccontare che tu sei nato per includere, non per escludere, perché mi cadono le braccia. Ecco, chiedo scusa ai tifosi salviniani, ma questo video dovevo farlo. Quando ho sentito questa dichiarazione l'ho dovuto fare. Poi voi siete liberissimi di continuare a votare Salvini, anche se abitate a Caserta, Napoli, Roma, Latina, Ostia, Rimini-Riccione, un'altra bronzatura, un'altra canzone, Pesaro, Bari, Foggia, Palermo, Napoli, Catania. Potete, in Toscana, perché dal poi in giù anche in Toscana non è che vi salvavate da... Per fortuna che gli italiani sono stati intelligenti negli anni 90. Mi complimento con gli italiani perché con questi venti di secessione non hanno dato retta a quelle correnti che volevano dividere l'Italia, perché chissà dove saremmo finiti. Per fortuna che gli italiani hanno dimostrato, come sempre, grande intelligenza, è un popolo sommamente intelligente. Per fortuna mi complimento davvero. Però a volte mi chiedo, ma quelli che abitano in tutte queste città che vi ho raccontato e votano Salvini, ma non se lo ricordano? Non si ricordano gli anni 90 o gli anni 2000? Non se li ricordano? Ma forse non è la stessa persona, come dicevo all'inizio del video, ma forse è un omonimo. Arrivederci a tutti e grazie.